Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, oggi siamo di nuovo qui con un nuovo pack opening, ragazzi guardate la squadra della settimana Ronaldo, Ibrahimovic, Carroll, Umels, Perisic, chi più ne ha più ne metta, guardate qui Cristiano, Ronaldo, guardate le sue statistiche immenso ma soprattutto guardiamo il cambio di ruolo, cioè è una prima punta, dalla sinistra diventa prima punta Ma adesso guardate il mio giocatore preferito ragazzi, eccolo qui Zlatan Ibrahimovic, se prima era un mostro, adesso è un mostro, un big mostro, un animale Cercherò di trovarlo appunto in questi pacchetti, prendiamo un po' di pacchetti, vediamo come va Quindi, primo pacchetto, ecco qui con il Pipita Iguain, attenzione, il Pipita, il Pipita, il Pipita Ibarbo Subito iniziamo con il bug ragazzi, Ibarbo, altro pacchetto, sempre il Pipita, prima Ibarbo, adesso vediamo cosa ci riserva Attenzione, Oscar, meglio che niente ragazzi, va bene anche Oscar Andiamo avanti a spacchettare, terzo pacchetto, attenzione, terzo pacchetto, Negredo, Negredo, sempre il Pipita ragazzi Andiamo di Pipita che sta andando bene, vediamo un po' chi ci fa trovare Cerci, Alessio Cerci, dai cazzo Eccolo qui, il Bomber, il Portier, dai cazzo Howard, facci trovare qua, chissà, Snyder, mamma mia mi era preso paura Snyder E De Santis, questa volta tocca a De De Nazard, attenzione, attenzione, Mignolet, vabbè, meglio che niente Non so quanto stiamo spacchettando ma andiamo avanti, c'ho, Griezmann, dai cazzo Griezmann, per favore Miranda, 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 bello Miranda però, bel difensore, provatelo veramente forte Messi in copertina ragazzi, Messi in copertina ci può portare solo bene Dai Messi in copertina Dai Messi in copertina Cahill Ma Cahill Altro pacchetto, Griezmann Mi stanno cadendo le palle ragazzi, non stiamo trovando niente di che, adesso non va niente, si è bloccato Perché non parti, aprimelo Oddio, Cazorla, Cazorla Beh, 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 Cazorla e, chi è l'altro? Ramsey, no, chi è Ramsey, Arteta Altro pacchetto, mi sto addormentando veramente, non so più cosa dire, altro pacchetto Messi Ah, Arbeloa, Arbeloa è quagliarella, grande quagliarella Ancora Griezmann ragazzi, però non abbiamo trovato una sega Beh, Bender, grande Bender Bender del Borussia Dortmund e anche Gundogan ragazzi Quello tarocco però, non quello del Borussia Dortmund, intanto mi piace per il Gundogan tarocco Hazard, io veramente non so più cosa dire Hazard, dai Pepe, puttana, avevo visto Real Madrid, avevo visto Portogallo, ho detto eccolo qui E invece ragazzi è un'inculata, Pepe Non so più, basta, cioè mi sta passando la voglia, veramente, non so più cosa dire Ibra, 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 Ibra Porca puttana, porca puttana, porca puttana, porca puttana Ibraimovic 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 Il mio dio Il mio dio Ibra Prendiamo per Ibraimovic Mamma mia Mamma mia Ibraimovic in forma Non ci posso credere Non ci posso credere Non è vero Non è possibile Oh mio dio Oh mio dio La neve La neve su Zlatan La neve su Zlatan E io ho le mani qui Che mi stanno tremando ragazzi Ibraimovic Oh mamma Oh mamma Non ci posso credere Cioè il giocatore penso più costoso Di tutta la mia vita E poi È il giocatore che amo di più Tutto in una volta Cioè Oh mio dio Il mio miglior pacchetto di sempre Ibraimovic No cioè Qui devo fargli una foto Mamma mia Mamma mia Oddio Mi stanno tremando le mani Mamma mia Questa ragazzi La mando agli amici di FIFA Plaza A vedere quanto infamate Mi mandano Oh mio dio Oh mio dio ragazzi Oh mio dio ragazzi Mamma mia Mamma mia Merda Ok ok Direi che questo Condividete il video Iscrivetevi al canale Lasciate un mi piace Un commento Infamatevi Per il culo che ho Fate quello che volete Noi ci vediamo domani Noi ci vediamo domani con la review di Slate Libra Io mi ci informo ragazzi Io intanto vado un attimo a riprendermi Ci vediamo al prossimo video Bella Noi ci vediamo al prossimo video